Alberto Guerrieri Come è nata la collaborazione con il Parco Oltremare per questa festa dell'uva? La nostra azienda è un'azienda agraria dove siamo alla sesta generazione, un'azienda agraria familiare. Siamo stati contattati da Oltremare perché siamo qui del territorio da generazioni e cerchiamo di esprimere il meglio che è possibile con le nostre uve, trasformando le nostre uve in vino. Quindi abbiamo voluto insieme poter far vivere un momento particolare, un momento di agosto e settembre dove siamo in campo nei nostri vigneti delle colline pesaresi e andiamo a raccogliere la nostra uva per poterla portare qui insieme all'Oltremare e condividere con tutte le famiglie un momento che è uno dei momenti principali nella produzione del vino che è quello della pigiatura, la pigiatura dell'uva per riuscire ad ottenere un mosto che poi faremo fermentare qui all'interno di Oltremare e con il quale realizzeremo il primo vino di Oltremare in collaborazione con la nostra azienda agraria Guerrieri. Allora io vengo dalla provincia di Bari, Noci e mi chiamo Margarito Franco. Per me è tornare alle vecchie origini di quando ero bambino, quando piuggevamo il vino noi nel Salento e sinceramente è stato entusiasmante rifarlo con un'età avanzata e con la compagnia di mia figlia, la piccolina. Mi sono divertita tantissima! E allora buongiorno e benvenuti alla festa dell'uva! Oltremare Family Experience Park Per l'etichetta che verrà prodotta nella nostra azienda agraria Guerrieri e ci riportiamo verso il centro e mamme che dovete fare le foto e i filmati da questa parte qui c'è spazio vai che riempiamo bene bene la piazza c'è spazio qua dietro e cominciamo a figiare Pronti? Via! Sì, me le impagno in un'altra parte Sì, me le impagno in un'altra parte Sì, me le impagno in un'altra parte Ma io ho finito Guarda, guarda, stiamo facendo tutti del posto Guarda, guarda, guarda Anche colpa su, a questi ragazzi, via! Guarda, guarda, guarda Tutti quelli che abbiamo fatto da questa parte, seguiamo la... Visto? Grazie. Grazie. Grazie.